Veramente, come ha detto Anna, è quasi più emozionante trovarsi qui a parlare non dal vivo, ma online. È quasi molto più bello essere sul palco, ma sono davvero felice di essere qui in questa edizione così particolare quest'anno, poi siamo tantissimi. Sì, io faccio la commercialista da anni, cerco di rendere più fruibili e più comprensibili a tutti i temi fiscali che insomma fanno paura, c'è sempre una grande angoscia in merito a questi temi e cerco di farlo sui miei canali social attraverso anche disegnini, schemini. Chi mi segue sa che spesso appunto semplifico schematizzando il più possibile. Allora, ho qualche slide che adesso cerco di condividere con voi. Vediamo se funziona tutto. Bene, adesso io volevo ingrandirlo, non mi vedo ma non fa niente. Speriamo che funzioni. Allora, perché non riesco a scusare. Vai a finire la presentazione perché noi le slide le vediamo. Voi le, ecco, ok, dovevo solo cercare, ecco, di lanciare la presentazione. Bene, appunto il mio talk riguarda questo tema un po' particolare che ho chiamato non solo fatture. Perché? Perché quando mi sono proposta per fare questo talk, in realtà stavo, era il giorno del mio compleanno, stavo lavorando a un corso online che ho preparato, che in realtà non è proprio un corso online. E lo stavo preparando su una piattaforma in WordPress. E mentre lo facevo, mi dicevo, beh, ma cavoli, io adesso non sto facendo la commercialista, quasi quasi divento una web designer, no? E quindi mi sono detta, caspita, è vero che quando si è freelance vuol dire essere esperti di tante cose, vuol dire saper fare un sacco di altre cose oltre al proprio lavoro. Perché alla fine siamo esperti di marketing, di comunicazione, facciamo appunto web designer, dobbiamo capire come vestirci per comunicare le cose giuste, dobbiamo fare customer care, quindi un sacco di altre cose. E tra queste altre cose, ahimè, c'è anche la parte amministrativa. E so già che vi sentite male al pensiero. Amministrazione non è una parola generica, cioè è una parola generica che ho utilizzato per andare a identificare cosa? Tutti quegli aspetti generali di organizzazione, di gestione burocratica, di contabilità. E non indica necessariamente solo mettersi lì a fare le fatture. Ci sono tantissime questioni e tantissimi dubbi che dobbiamo risolvere giornalmente in merito alla nostra partita IVA. E quindi ad esempio, non so, dobbiamo sapere se possiamo collaborare con altri freelance, se siamo obbligati a usare il POS, se dobbiamo avere un conto corrente separato per l'attività. Ci sono tutte queste domande a cui dobbiamo rispondere e magari non abbiamo considerato di dover fare anche tutto questo quando abbiamo aperto la partita IVA. Quindi oggi volevo vedere con voi tre di questi dubbi più ricorrenti e insomma darvi degli spunti di riflessione. Un primo argomento che è una questione veramente molto comune è questa, cioè mi viene chiesto spesso come fare a gestire le collaborazioni tra freelance. Abbiamo visto come collaborare tra freelance prima dal punto di vista tecnologico e di piattaforme da utilizzare e io vi parlo dal punto di vista fiscale contabile. Nel senso che spesso si fanno dei lavori e dei progetti per il cliente finale, ma la soluzione di fatturare ciascuno le proprie competenze non è quasi mai la soluzione migliore. Perché di solito si fa un progetto in due, tre o più freelance e al cliente si invia una fattura sola. Questo perché? Perché diciamo che il cliente preferisce pagare un soggetto solo piuttosto che pagare tre, quattro freelance. Prendiamo ad esempio l'ipotesi in cui ci siano due freelance che fanno un lavoro. Allora, ipotizziamo che il freelance A sia in regime fiscale ordinario, insomma chiamiamolo, quindi non agevolato. A quel punto un'idea potrebbe essere che il freelance A fatture tutto il compenso al cliente finale e poi riceva una fattura dal freelance B. A questo punto può funzionare perché il freelance A, essendo in regime ordinario, può dedurre il costo del freelance B. Il problema potrebbe verificarsi quando? Quando si è sia l'A che il B in regime forfettario, perché il regime forfettario non può dedurre i costi. E quindi se il freelance A fatturasse tutto l'importo al cliente e incassasse il relativo compenso, non potendo dedursi il costo della prestazione dell'altro freelance, si troverebbe a pagare imposte e contributi su un importo molto più alto rispetto a quello che gli rimane in tasca. E quindi, là, a quel punto, io cosa consiglio? Consiglio di suddividere l'importo al netto delle imposte e contributi del compenso che viene poi dato al freelance B, altrimenti la cosa non sta in piedi, nel senso che il freelance A pagherebbe anche imposte e contributi su quello che non è il suo vero compenso. Un secondo quesito che mi viene fatto spessissimo è questo. Devo avere un conto corrente separato per la mia attività? Perché mi viene fatto spesso? Perché anni fa era stato introdotto un obbligo di avere un conto corrente dedicato all'attività. Cosa vuol dire dedicato? Vuol dire che doveva esistere un conto corrente dove far transitare tutti gli incassi e le spese inerenti alla partita IVA. Adesso quell'obbligo non c'è più, quindi non è obbligatorio avere un conto corrente separato. Potrebbe essere utile ai fini gestionali e quindi per monitorare il business e avere un conto corrente non mescolando incassi e spese con le spese personali. Infine, una domanda che sembra banale ma in realtà non lo è perché anche questa crea dei dubbi. Posso incassare in contanti? Allora, sì, ovviamente sì, si può incassare in contanti, non è vietato. Di solito sì, evita l'incasso in contanti proprio per monitorare gli incassi e per avere una gestione più fluida della contabilità, però non è vietato. L'importante è rispettare il limite di pagamento in contanti che viene modificato solitamente ogni anno. Adesso dal primo luglio sarà di 2.000 euro. A queste e ad altre 50 domande ho cercato di dare una risposta al mio nuovo corso che si chiama Fammi una domanda. Trovate il link qua sotto e nella newsletter vi manderanno un codice sconto solo per gli iscritti al Freelance Camp che dura fino al 31 luglio.